Sei errori che sicuramente commetti sulla leg press. Oppure no, magari sei le gambe a calcetto, non sai nemmeno dell'esistenza di questo attrezzo, però in questo video cercherò di farvi vedere sei eventuali errori che non devi commettere. Vabbè, se è un errore non va commesso, a prescindere, no? O ci sono dei errori che si possono commettere? C'è anche più anche. Ah, che può commettere l'errore volutamente? Ok. Ok. Andiamo a vedere questi errori. E ora facciamo anche la tombola del coach. Quindi ogni errore che commetti, metti il numero dell'errore, se l'hai commesso o meno. Vediamo chi vincerà questa tombola commettendo il maggior numero di errori. Il primo errore è quello di posizionare i piedi magari un po' più in alto e un po' più in basso. Assolutamente no. Ovviamente sappiamo già che a seconda di come posizioniamo i piedi, coinvolgiamo di più o di meno quadricipiti o femorali e gluti, quindi poi qui fai un lavoro, una via di mezzo, cioè su una gamba fai un focus su una parte, sull'altra un focus in un altro gruppo muscolare. Quindi assolutamente no. Può sembrare strano, però lavorando in palestra da tanti anni ho visto che molte persone non se ne accorgono. Ovviamente magari qui sto accentuando un po', però per avere dei dislivelli a livello del bacino e strutturali, basta eseguire l'esercizio in un modo sbagliato per mesi, mesi e mesi, e poi lì vi trascinerete tanti piccoli problemi e accorciamenti muscolari. Quindi spesso questo è un errore. Andiamo all'errore numero due, che è molto simile a questo, che in realtà molte persone cosa fanno? Posizionano un piede più stretto e l'altro leggermente più largo. Il ragionamento qui è più o meno lo stesso quello di prima. Voi dovete prendere come punto di riferimento una distanza dai bordi e cercare di restare più o meno con la stessa distanza. E questo è importante perché molte persone non prendono in considerazione questo, mettono in piedi sulla pedana, spingono a caso e ci ricolleghiamo all'errore numero uno. Quindi è importante avere la stessa distanza sia dall'alto verso il basso e sia lateralmente. Ovviamente la distanza è del tutto individuale. Ognuno di noi ha un setting sull'esercizio, ma deve essere sempre simmetrico. Ora qui andiamo al terzo errore. E questo è quello che veramente mi fa piangere il cuore, che mi viene una coltellata nel cervello quando lo vedo. E quando iperestendono l'articolazione. Questo. Mamma mia, già mi viene da piangere. Noi dobbiamo capire principalmente una cosa. Ogni qualvolta iperestendiamo l'articolazione, in qualche modo si rilassa il muscolo. Non è una scelta tanto intelligente quella di rilassare il muscolo con un sovraccarico che spinge contro l'articolazione. Quindi è estremamente semplice come errore. Basta non iperestendere. Anticipo già perché so che molti che fanno powerlifting eseguono il lockout sugli esercizi. Qui è un altro discorso, è un altro ragionamento. Non ha a che fare con lo squat né con il powerlifting. È importante cercare di non eseguire il blocco articolare. Soprattutto se sei un principiante. Un avanzato che lo fa a pieno controllo dell'esecuzione dell'esercizio. È un altro discorso. Ma ne ho visti dei principianti farsi del male con questo. Ad ogni ripetizione. E procurarsi. Vedi, già mi fa male i ginocchi. Annaccia a morte. E procurarsi infiammazione e lesioni a livello articolare. Proprio perché ad ogni ripetizione iperestendono. Rilassando il muscolo. Questo non va affatto. Ora passiamo all'errore numero 4. Tra l'altro io mi sono fatto male così. Quindi questo è un errore estremamente pericoloso. Adesso capirete perché. Fortunatamente per voi, ma sfortunatamente per me, ho commesso già tutti gli errori. Spero, altrimenti morirò a breve. Se continuo a commettere errori. E per quanto riguarda l'allenamento e in tanti esercizi, mi sono già fatto del male. Quindi diciamo, su questo ho dato già. Ero sulla pressa. Carico estremamente alto. Molta forza. Zero esperienza. E mi sono fatto male. Come? Nel momento in cui scendi e succede questo. Guarda qua. Quindi nel momento in cui scendi un po' troppo oltre la tua mobilità articolare e il sedere si stacca, il rischio di lesionarti è estremamente alto. Perché quando andrai a spingere di nuovo il carico, gran parte del carico si spossa dritto sotto la schiena, che non avrà alcun supporto. E io così, per farvelo capire, con una pressa estremamente carica, giù il sedere si è arrotolato, nel momento in cui sono andato a spingere, ho sentito una scossa fortissima. Scossa? Va bene! Che mi partiva da dietro la gamba fino a sopra il collo. Non riuscivo ad alzarmi per dieci minuti. Ve lo giuro, sono stato bloccato. Dette, io adesso non cammino più. E per dieci minuti sentivo questa scossa fortissima in tutta la schiena, fino a dietro la gamba. Poi mi sono alzato, io per un mese e mezzo non sono riuscito ad allenarmi e zoppicavo perché non riuscivo a camminare, finché poi sono riuscito a capire che mi sono procurato una bellissima lesione L4-L5 con qualche aggravante. Quindi è estremamente importante capire che il sedere deve restare sempre attaccato sulla leg press. Ci sono molti atleti avanzati, non so come fanno, che si allenano con dei carichi altissimi e staccano il sedere ad ogni ripetizione, ma come vi dico sempre, non prendiamo come punto di riferimento gli atleti avanzati perché poi ognuno di noi risponde in un certo modo e magari quella persona ha una resistenza maggiore, si è già abituata a quell'esecuzione e quindi buon per lui. Noi invece dobbiamo cercare di salvaguardarci. Come si fa ad evitare questo errore? La cosa più importante è capire qual è la tua mobilità articolare perché vi spiego, nei momenti in cui io quando scendo fino a un certo punto, qui questo non avviene, se scendo un altro poco, tu questo avviene. Cosa significa? Che il mio corpo non ha più la mobilità giusta per mantenere l'attenzione nei muscoli che mi interessano, quindi quando scendo un pochettino in più sposta altre parti del corpo per compensare quel centimetro in più. Quindi la cosa più importante è capire tu fino a dove puoi arrivare mantenendo l'esecuzione pulita e perfetta. Se vedi che quel centimetro in più ti comporta questo, non lo fai e ti fermi un pochettino prima. L'errore numero cinque è quando cerchiamo di rendere un esercizio ibrido e quindi di conseguenza stiamo facendo sulla leg press la parte inferiore ma ci vogliamo mettere anche un po' di tricipiti. Eh sì, ci sono molte persone che caricano tanto e ad ogni ripetizione cercano di aiutarsi con le mani spingendo. E poi lì mi viene da chiedere scusa, non ha più senso caricare un pochettino in meno e mantenere il focus del lavoro sulla parte inferiore piuttosto che ad ogni ripetizione aiutarsi spingendo con le mani? Punto interrogativo. Quindi questo è un errore che vedo spesso in sala attrezzi persone che caricano molto di più di quello che riuscirebbero a caricare con la parte inferiore e ci mettono un aiutino in più con le mani e anche un richiamino a tricipiti chiamiamolo. Qua tanto si facciamo si può fare pure tricipiti mettiamo pure bicipiti fai un esercizio total body ci possiamo mettere. Mamma mia che cazzo mi prego a me! E andiamo al sesto e ultimo errore mi raccomando no, mi stava salendo il caffè Sesto ed ultimo errore mi raccomando lascia nei commenti voglio sapere quali di questi errori commetti spero non commetti più perché se no avrai se no a parte che sarà stato inutile questo video avrai vita brevissima con la palestra Il sesto errore è quando nel momento in cui spingiamo schiacciamo le ginocchia verso l'interno questa è una cosa che non va fatta rischi molto molto di farti del male principalmente per un discorso di stabilità è importante mantenere l'articolazione in asse quando vogliamo eseguire un esercizio a parte per una questione di tensione muscolare ma come ho detto prima per una questione di stabilità questo è un errore che molti molti principianti commettono sono giustificati però è importante capire che questo è un errore che non va fatto principalmente per un motivo una volta che commetti questo errore e ti fai del male ti giochi chiamiamola la carriera anche se non sarai un atleta anche se non ti interessa essere un atleta sono lesioni che una volta che te le procuri te le trascini per sempre e non ti allenerai più bene io mi sono sfondato la schiena e ad oggi dopo sette anni mi alleno sì però sono molto limitato quindi importante capire che schiacciare le ginocchia verso l'interno è un errore grave nel momento in cui te ne accorgi che commetti questo errore cerca di limitare assolutamente questo danno e ovviamente questo vale anche per lo squat dove lì rischiamo molto di più di farci del male adesso che abbiamo visto i sei errori e tu sicuramente ne hai commessi almeno tre sicuro al 100% ma sicurissimo vediamo come eseguire un'esecuzione giusta mettendo tutti i punti insieme quindi prima di tutto ci sraiamo ovviamente se la tua pressa se la tua leg pressi regola aggiusti la pedale aggiusti lo schienale a seconda di come ti senti più comodo posizioniamo i piedi allineati in giù abbiamo un focus maggiore sul quadricipite in su un focus leggermente maggiore sul femorale e glutei piedi allineati centrali con la pedana stacco non iperestendo no stacco tolgo il fermo mi appoggio schiena dritta inspiro e giù questo è ricordatevi non staccare il sedere tiratevi contro l'attrezzo in modo tale da restare sempre attaccati e questa è l'esecuzione standard e classica così facendo non puoi farti del male spero vi sia piaciuto questo video già sai like iscriviti al canale attiva la campanella perché questo mese vi bombarderò di video ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti